Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. In primo piano la cronaca inizierà il 18 ottobre a Torino. Il processo d'appello a carico di Pasqualino Folletto, il magazziniere di Asti che due anni fa uccise con 45 coltellate la tabaccaia Maria Luisa Fassi. I legali dell'uomo, rinchiuso nel carcere di Ivrea dove deve scontare una condanna a 30 anni, ribadiscono che il loro assistito è ormai una persona distrutta. Ma sentiamo il servizio di Catti Porceddu. Il servizio forse dobbiamo ancora riavvolgerlo. Intanto proseguiamo con altre notizie di cronaca perché la città di Casale Monferrato ha dato l'ultimo saluto ieri ad Elena Seprodi, l'ennesima vittima di femminicidio uccisa dal marito Kutim Asanai. Lei ungherese e lui albanese avevano condiviso insieme l'alloggio di strada per Asti 4 da dove la donna se n'era andata perché non voleva più stare col marito. Si era trasferita a Valenza dal figlio 23enne Sergio ma Elena tornava ogni giorno a Casale ad innaffiare i fiori e soprattutto a dare da mangiare ai suoi gatti. L'ennesimo litigio ha portato alla tragedia consumatasi lo scorso 15 settembre proprio fra le mura domestiche. Il marito violento si trova in carcere per omicidio volontario. Torniamo sulla notizia di apertura come dicevamo le notizie relative al processo d'appello per Folletto che ha ucciso ad Asti Maria Luisa Fassi. Sentiamo Catti Porcetto. È un uomo distrutto, disperato, che non si dà pace dal carcere di Ivrea dove era inchiuso per scontare una condanna a 30 anni. Pasqualino Folletto grida tutto il suo dolore e la disperazione per quell'orribile delitto compiuto nel luglio di due anni fa quando ammazzò con 45 coltellate la tabaccaia astigiana Maria Luisa Fassi. A rendere noto lo stato d'animo di Folletto sono i suoi legali Silvia Merlino di Alba e Stefano Romagnolo di Asti che il 18 ottobre si ritroveranno in tribunale a Torino per l'inizio del processo d'appello. In quella sede gli avvocati punteranno nuovamente sulla richiesta di depennare dall'accusa l'aggravante della crudeltà riconosciuta in primo grado. Un attenuante che probabilmente ridurrebbe la pena del magazziniere che nella sua confessione aveva dichiarato di aver agito per disperazione. Una figlia malata, una moglie e due gemelli da sfamare, il vizio del gioco alle macchinette e il magro salario gli avevano fatto accumulare debiti divenuti insostenibili, tanto che in un momento di follia omicida aveva atteso che la Fassi quella mattina aprisse la sua tabaccheria per derubarla. Una rapina andata male, l'angoscia riflessa in un momento di appannamento mentale e poi l'omicidio. Brutale e ferrato con quelle 45 coltellate che hanno portato i giudici di primo grado ad aggravare la sua posizione tanto da decidere poi per la condanna a 30 anni di carcere. Ma nell'atteggiamento di Folletto ci sono altri aggravanti che in fase dibattimentale avevano creato qualche ombra su questo uomo minuto e apparentemente incapace di fare del male. Il suo atteggiamento dopo l'omicidio, ricordiamo che il magazziniere, si era recato abitualmente al lavoro senza far trappelare, secondo le testimonianze dei colleghi, alcun cenno di nervosismo. Prima era necessariamente passato da casa per disfarsi degli abiti che indossava e si era disfatto anche del coltello che comunque quella mattina si era portato dietro. Insomma, un modus operandi che nonostante la confessione resa dopo che gli inquirenti la mattina del 4 luglio di due anni fa lo avevano visto immortalato nella telecamera di sorveglianza davanti alla tabaccheria, fa pensare a qualcosa di più di un raptus della disperazione. Circostanze avvalorate dalla decisione della sentenza di primo grado, tra poco al vaglio dei giudici della Corte d'Appello. Ed è pena ridotta in appello con concessione dei benefici di legge per il giovane allenatore di squadre giovanili di calcio finito nei guai per abusi sessuali. Emma Camagna È stata ridotta in appello da due anni e due mesi a un anno e dieci mesi la condanna inflitta a Jacopo Scaffaro, l'allenatore della squadra di calcio giovanile di Cabanette che fra lo scalpore e l'incredulità di amici, conoscenti, genitori dei giovani atleti era finito processo per abusi sessuali. La vicenda, novembre 2014, quando Scaffaro ventottenne fu arrestato finendo ai domiciliari, creò due fronti, quello dei colpevolisti, l'altro degli innocentisti, fra l'altro il più corposo. Su Facebook venne aperto un profilo Io sto con Jacopo, dove in molti espressero solidarietà e la certezza che quel bravo ragazzo non si fosse comportato in modo scorretto. Era persona nota non solo in ambito sportivo, a Palazzo Rosso aveva svolto per qualche tempo mansioni nell'organizzazione e promozione di manifestazioni. A processo arrivò con un capo d'accusa pesante, sottoscritto dal pubblico ministero Marcella Bosco, articolato in quattro imputazioni. Da due venne assolto, fu condannato per i capi in cui era descritto a suo carico un comportamento non consono al ruolo educativo nei confronti di ragazze e ragazze adolescenti per i quali avrebbe dovuto essere un esempio. Aveva proposto gare di autorottismo e condannato a due anni e due mesi. Il difensore Lorenzo Repetta andò in appello. La procura generale di Torino ha chiesto quattro anni per tutti i reati, anche per quelli da cui ad Alessandria era stato assolto. Il legale ha minimizzato la portata degli episodi di violenza e ha ottenuto la riduzione di pena con concessione della condizionale. Cambiamo argomento, continuano i disagi a Silvano Dorba per le perduranti limitazioni alla viabilità sul ponte che collega le provinciali per Novi e per Alessandria. Sentiamo Fabrizio Mattala. Il ponte sul torrente Orba che collega la provinciale Ovada Novi con la Ovada Alessandria da più di un anno è interessato da lavori che impongono il transito degli autoveicoli a senso unico alternato. Sale in questi giorni la protesta degli automobilisti e dei camionisti per il protrasse e dei disagi. Siamo andati dal sindaco del comune di Interessato Silvano Dorba, Ivano Maggiolino e a lei abbiamo chiesto spiegazioni. Purtroppo non ci sono novità di peso, quelle che interessano al comune che poi sono quelle che sono date dal fatto di poter avere un contributo come era stato chiesto alla regione Piemonte a gennaio. Un incontro con la regione Piemonte era stato subito fatto con l'assessore competente che è l'assessore Balocco e alcuni dirigenti, alcuni funzionari della regione Piemonte. Dopodiché inviato il computo metrico per una spesa non indifferente perché 400 mila Euro sono un importo molto alto per quanto riguarda un piccolo comune come il nostro. Comunque la disponibilità che era stata data rispetto al fatto di avere un po' di entrate con owner di urbanizzazione di nuove attività che si sono aperte qui a Silvano ci davano anche questa copertura rispetto al fatto di avere un finanziamento dalla regione Piemonte. Dopodiché con varie sollecite anche tramite alcuni consiglieri regionali della zona in particolare il consigliere regionale Walter Rotria che è nella commissione trasporti non siamo più riusciti ad avere una risposta in merito. Quindi ad agosto come amministrazione abbiamo deciso di sollecitare con una lettera un po' più pesante il fatto di avere una risposta negativa o positiva rispetto alle problematiche per poter fare questi lavori sul ponte. In questo senso noi ci siamo già dati una specie di programma per attivare diverse soluzioni tra cui prima di tutto un incontro con le amministrazioni che gravitano intorno al passaggio di questo ponte soprattutto per vedere la possibilità di o aprire una viabilità solo per i veicoli o la possibilità magari per una chiusura di nuovo temporanea per poter svolgere alcuni interventi magari minimi piuttosto che mantenere sempre una viabilità un po' così. Restiamo in tema viabilità, più sicurezza e meno multe per i trasgressori con l'inaugurazione dei nuovi accessi pedonali alla stazione ferroviaria di Acquiterme. Più sicurezza per i pendolari di Acquiterme. Sono stati infatti inaugurati i nuovi accessi pedonali alla stazione. Percorsi protetti da via Chiabrera con un investimento di 250.000 euro da parte di rete ferrovie italiane. Prolungando il primo e il quarto marciapiede verso il passaggio a livello si ha così ora un utilizzo in entrata e in uscita con camminamenti protetti e ricintati così da renderli separati dalla zona di circolazione dei treni. Per la loro costruzione sono stati eseguiti i rilevanti interventi di modifica dei binari tronchi oltre alle opere di demolizione e spostamento dei sottoservizi. La Convenzione per la gestione degli accessi, sottoscritta col Comune, prevede che i percorsi siano dotati di due cancelli di ingresso. Nelle ore notturne, durante lo stop della circolazione ferroviaria, saranno chiusi e questa chiusura sarà svolta in collaborazione col Comune di Acquiterme. Inoltre è stato rinnovato l'impianto di illuminazione del piazzale ferroviario lato via Chiabrera con nuovi corpi illuminanti a LED disposti lungo i due percorsi che sostituiscono la torre Faro demolita. Ora a Genova, prima prova scritta per i 5.522 aspiranti infermieri che hanno passato la preselezione automatica e ora si sono cimentati nella prova scritta del concorsone voluto dalla Regione Liguria. Coloro che la supereranno affronteranno nella stessa giornata anche la prova pratica in vista di quella orale ad ottobre. Sono molto soddisfatta, ha affermato la Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore alla Sanità Sonia Viale, perché tutto sta procedendo secondo i tempi stabiliti. Voglio ringraziare il personale, gli operatori coinvolti nell'organizzazione del concorso che dopo anni di immobilismo non era molto atteso. Hanno partecipato migliaia di persone con un'età media di 28 anni. Ritengo, ha detto ancora Sonia Viale, che questo sia un dato assolutamente positivo perché l'ingresso di tanti ragazzi preparati e motivati consentirà di migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini. Per la giornata europea, voltiamo pagina, delle fondazioni bancarie, ad Alessandria, la fondazione Cassa di Risparmio apre le porte di Palazzo Unvetus. Domenica 1 ottobre, quattro visite guidate all'antico Broletto. Ingresso libero e gratuito anche alla ricca collezione delle opere d'arte. Roberto Monteriso. Ancora una volta per la giornata europea delle fondazioni bancarie si apre alla cultura. Il 1 ottobre che cosa succede? Diciamo che questa è la quinta edizione della giornata europea delle fondazioni bancarie. Si prendono iniziative di carattere culturale. Noi abbiamo pensato che questa fosse l'occasione per fare ancora una volta porte aperte in questo palazzo che credo sia uno dei più antichi di Alessandria che è sede della fondazione, che ha una quadreria nel Broletto a piano terra di tutto rispetto con artisti del nostro territorio, quelli Pellizza, Morbelli, Carrà, Barabino, Onetti e Bistolfi. Nell'occasione sarà possibile anche visitare tutto il palazzo. Ci saranno delle orari precisi che vanno dalle 10 alle 13 il mattino e dalle 15 alle 18 il pomeriggio per la visita alla galleria d'arte. E per quanto riguarda la visita al palazzo stessi orari ma con due visite guidate il mattino e due il pomeriggio per le quali bisognerà prenotarsi presso la segreteria della fondazione. Quanto è importante che l'arte si apra alle persone? L'arte è sicuramente il fatto culturale di più alto respiro e credo che la fondazione nel settore dell'arte ha sempre investito molto. Questo è un patrimonio di tutti gli alessandrini, purtroppo molti non lo conoscono e l'iniziativa va proprio in quella direzione di aprirla a tutta la cittadinanza. Prossimamente partiranno anche iniziative dedicate alle scuole con visite guidate al palazzo e alla quadreria che insomma pubblicizzeremo nel modo dovuto. E avete sentito il presidente della fondazione Cral Pierangelo Taverna. E Alessandria si prepara ad un altro evento ad illuminarsi ancora grazie ad un'altra opera dell'artista Marco Lodola. Questa sera alle 20 l'inaugurazione alle porte della città alla Rotonda vicino al Marengo Museum. Sentiamo l'intervista al sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Ora mi piacerebbe poi vederla in atto, illuminata e così via. Una descrizione storica mi sembra interessante, diciamo contenutistica. Che cosa rappresenta? C'è coerenza? Direi di sì, innanzitutto si pone su una rotonda che è prospicente all'area di Marengo. E quindi il fatto che sia dedicata a Marengo, cioè al cavallo di Napoleone. Ma ovviamente in riferimento alla battaglia di Marengo, quindi alla presenza di Napoleone, tutto ciò che consegue nelle nostre zone, ha come dire un rilievo non indifferente. Non solo, ovviamente Lodola è un artista e come artista conosce la storia dell'arte. Se si è riferito a un famoso quadro di Davi che rappresenta Napoleone a cavallo, vuol dire che da una parte c'è una presa di coscienza del passato, come ho già detto, non in atteggiamento nostalgico, ma come suggestione per vedere lo sviluppo futuro e per la propria creatività. In questo senso mi sembra estremamente interessante l'operazione sulla rotonda che andremo ad inaugurare, perché è una riflessione sull'arte. Una città che lamenta sempre di non avere nulla, cosa che non è assolutamente vera, viene ribadito al concetto che quando si vuole esiste una forte componente artistica ad Alessandria, che si sposa col passato, lo esalta, ma lo proietta anche nel futuro. Tra poco nella pagina sportiva torneremo sul pareggio dell'Alessandria Calcio a Siena, il servizio è curato da Dede Vinci, poi il meteo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.